la croce rossa è per me è vita un momento per sentirsi importanti, un momento per collaborare per me la croce rossa è un momento di relax alla fine della giornata lavorativa la croce rossa è un momento di convivialità per me la croce rossa è diffusione sul territorio per me la croce rossa è famiglia e aiutare per me la croce rossa è passione, umanità e socializzazione per me essere in croce rossa è un privilegio la croce rossa è comunicare e sensibilizzare la croce rossa per me è un punto di riferimento noi al servizio del prossimo aiutare chi un'era la croce rossa è cooperazione preparazione, organizzazione per me che cos'è la croce rossa? è creatività, è divertimento solidarietà croce rossa col cuore saluto delle persone non solo e spirito d'appartenenza anche il parcheggio di un'ambulanza è croce rossa la croce rossa per me è amore incondizionato la croce rossa è una bellissima storia la croce rossa è un'ambulanza la croce rossa è un'ambulanza la croce rossa è un'ambulanza